E allora, apertura proprio dedicata al calcio, alla Serie D in particolare a una festa davvero molto importante, un traguardo direi davvero importante, quello del Foggia Luca. Sì, cent'anni di vita, sono quelli celebrati dal club rosso-nero, una festa in tono forzatamente minore, viste le imposizioni dettate dalle norme anti-contagio, ma comunque sono cento le candeline celebrate da un club storico. Per parlarne abbiamo in collegamento via Skype l'amministratore delegato del calcio Foggia 1920, Davide Pelusi, buonasera Pelusi. Buonasera Luca e buonasera ai telespettatori di Telesveva. Allora, tante iniziative davvero in queste ore per celebrare questi cent'anni del Foggia, è stata lanciata anche una maglietta celebrativa che vedremo a breve, ci piacerebbe farci anche raccontare un po' da lei. Come avete festeggiato, anche se siete stati costretti ad adeguarvi un po' all'emergenza e quindi alla necessità di non creare assembramenti? Sì, infatti io purtroppo ho dovuto festeggiare a distanza perché abito e vivo a Milano, quindi non mi sono potuto muovere, non ho potuto raggiungere il resto della componente societaria del calcio Foggia per poter festeggiare con loro al centro del campo il taglio della torta ai cento anni. Per l'occasione abbiamo invitato la bandiera storica del Foggia, il giocatore più rappresentativo Gianni Pirazzini, che gentilmente ci ha raggiunto e ha proceduto al taglio della torta. Il taglio della torta speciale, c'è anche una maglia speciale che adesso andiamo a vedere che è stata realizzata per questo centenario con di fatto dei lacci bianchi su strisce rossonere e una patch speciale. Sarà la maglia utilizzata quando si potrà tornare in campo Pelusi? Perché questo poi è un po' il vero grande punto interrogativo per tante società. Sì, infatti questa maglia è stata studiata appositamente per il centenario, quindi ricalca magari in chiave moderna la prima maglia storica del Foggia e ne abbiamo un documento storico grazie ad una foto che risale appunto al 1920 nella quale c'è la prima maglia con la quale il Foggia ha giocato. Anche lo stemma, il logo è stato ammodernato ma ricalca molto da vicino quel primo logo. Si vedono le tre fiammelle che danzano sul lago nel quale la tradizione foggiana racconta sia stato ritrovato il quadro della Madonna dei Sette Veli. Quindi ecco un logo storico per una maglia storica ma chiaramente in chiave prospettica per segnare diciamo il passaggio dal primo secolo di vita del calciofoggia al nuovo secolo che si va ad inaugurare, si va ad aprire da qui in avanti. Ecco la vera domanda che ci facciamo, immagino ve la facciate anche voi, è dove indosserà, in che categoria i giocatori del Foggia indosseranno questa divisa? Che sensazione avete circa l'evoluzione della situazione per quanto riguarda Serie D e Serie C vista anche questa assemblea di Lega Pro che è andata dritta verso l'opzione blocco dei ripescaggi da proporre in Consiglio federale? Sì, credo che la Lega Pro faccia di tutto per mostrarsi unite e compatta perché le proposte che avanzano sono abbastanza forti e difficili da accettare quindi a mio avviso un po' illusoriamente credono che presentandosi compatti possano in qualche modo spuntarla. Da quello che ne so io difficilmente potrà essere accettato sia dalla Lega di Serie D che dalle altre leghe e quindi dalla FGC il concetto che ci debba essere il blocco dei ripescaggi e soprattutto delle retrocessioni e che quindi il campionato in qualche modo venga congelato in maniera squilibrata ossia sia alle promozioni ma non alle retrocessioni. Se un campionato è congelato, è congelato in tutte le sue forme, sia in testa alla classifica che in coda per cui sia alle promozioni ma anche alle retrocessioni e noi ci auguriamo che ci sia spazio anche ai ripescaggi perché in questo modo le chance per noi, per il calciofoggia che è a un punto solo dal bitonto di poter essere ripescati aumentano considerevolmente, soprattutto considerando che c'erano ancora otto partite da giocare e che nel girone di andata quelle otto partite ci hanno visto fare un punto in più rispetto al bitonto e inoltre avremmo avuto lo scontro diretto in casa da noi. Quindi è chiaro che faremo di tutto su tutti i tavoli istituzionali ed eventualmente anche legali per poter disputare il prossimo anno in Lega Pro. Queste allora le certezze per quanto riguarda le stanze dei bottoni del calciofoggia. Grazie allora all'amministratore delegato Davide Pelusi. Grazie a voi e buon proseguimento. Grazie a voi e buon proseguimento.